Questo mi è appena arrivato, mi è appena arrivato da un mio carissimo amico utente corsista con il quale stiamo facendo un po' di lavoro sugli investimenti da un anno, più di un anno a questa parte, è stato anche un mio corsista ragazzi e mi ha mandato questa, diciamo, questo messaggio, un piccolo pensiero per dirti grazie perché abbiamo fatto i numeri e i botti quest'anno ragazzi e mi sono arrivate. Tantissime bottiglie di vino, allora io intanto volevo ringraziare Velio, ciao grazie Velio per il pensiero e questo è un pensiero per alcune operazioni che abbiamo fatto in super profit, sono contentissimo. Allora lui mi ha scritto non te le bere tutte insieme perché sono sei bottiglie ma io non sono sicuro di questa cosa appena arriva il weekend, insomma ragazzi è possibile che ci siamo alla patta gioia. Va bene, allora bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, oggi andiamo a fare il punto della situazione per quanto riguarda le altcoin, le criptovalute, perché c'è un cambio radicale importantissimo che andiamo a guardare oggi, un cambio di impostazione tra gli equilibri di bitcoin nel mercato cripto e quello delle altre criptovalute, soprattutto ethereum. Cosa sta succedendo al mercato delle cripto, alle altcoin? Quindi escludendo bitcoin ragazzi è la prima volta nell'arco di tre anni che bitcoin soffre contro le altcoin in termini di capitalizzazione e anche di potenza rialzista, ma soprattutto soffre contro ethereum. La market cap di tantissime criptovalute è ancora lontanissima dai livelli di bitcoin ragazzi, però quelle delle top 10 si sono avvicinate. La market cap delle top 10 in questi ultimi mesi ha fatto balzi da gigante, soprattutto quella di ETH che è raddoppiata ragazzi, ok? Moltissime criptovalute hanno fatto gli stessi numeri, anche di più di ethereum, però non è la stessa cosa ragazzi, perché in termini di valore assoluto di ricchezza, chiamiamola così, lo sviluppo che ha avuto ETH è sicuramente il migliore dall'inizio dell'anno, perché in termini di creazione di nuova, nuova linfa, nuova capitalizzazione, ha fatto veramente i botti. La domanda è, questa alt season selezionata, settoriale, di cui abbiamo parlato tanto negli ultimi mesi, può continuare anche da qui in poi? Oppure bitcoin ha raggiunto un livello estremamente importante di fondo della sua dominanza e da qui inizierà a rimbalzare? Solitamente quando un alt season va a terminare ragazzi, i mercati iniziano una fase di distribuzione e abbracciano poi quella che è l'ultima parte della bull run per iniziare la fase poi eventuale del mercato orso. Questa cosa è già arrivata, stiamo arrivando lì, oggi guardiamo questo nei grafici e cerchiamo di capire cosa sta succedendo alle altcoin, cosa è successo e tutti quelli che sono i dati oggettivi che ci possono dare un'indicazione sui prossimi mesi e su quello che potrà accadere perché ho idea di fare qualche esperimento, andare a scovare quelle che sono le crypto, le altcoin che possono fare x123, non ovviamente le micro ragazzi altcoin, quelle che quotano 20 milioni di dollari che sono minuscole, ma quelle grosse ragazzi, quelle che ci danno anche un po' di stabilità. Ma prima di andare sui grafici ragazzi, come sempre iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, mi servono i mi piace ragazzi, mi servono i mi piace perché mi date una mano con il canale YouTube, quindi sotto con i bottoni e andate a premere mi piace. Vi devo dare anche un'altra news perché molti di voi mi hanno scritto, dice Mauro cosa è successo al sito Trading On perché sono andati a comprare il corso di formazione It's Trading Time e non trovano più i bottoni. Allora ragazzi, il sito è stato totalmente cambiato e siamo entrati in una nuova fase che io ho chiamato Trading On 2.0 Trovate i link in descrizione per accedere a questo nuovo portale, ci saranno super news, tantissime super news perché questo change ci dà la possibilità di dare tantissimi nuovi contenuti e servizi Anche free a tutta la community, quindi sono contentissimo, è un lavorone ragazzi, quindi ancora siamo in fase di startup, tra un poco riapriremo tutte quante i servizi, tutti quanti questi corsi Va bene? Ok, allora ho detto tutto, adesso andiamo a vedere il primo grafico, primo grafico sul quale noi andremo a fare questo video ragazzi, la dominance di Bitcoin Allora, questo è un periodo storico estremamente rilevante per la dominance di Bitcoin perché vi faccio capire quello che è successo a livello mensile Giusto per guardare una candela che, guardate qui ragazzi, una candela rossa mensile di break del livello 57-58 Che era il livello di supporto stra-importante per la dominance di Bitcoin Il break di questo livello ha dato il via all'alt-season masticcia quello che abbiamo visto nell'ultimo mese, il mese di aprile Il mese di aprile ha visto un alt-season estremamente pronunciata ragazzi, ma non tutte le criptovalute hanno beneficiato di questa cosa Soltanto quelle con progetti interessanti che alcune poi ragazzi ci sono sempre i classici pump Doge, ovviamente abbiamo... Doge è proprio l'insegnamento diciamo di come funzionano i mercati Quindi molti la snobbano ragazzi, non è vera questa cosa, non bisogna snobbare Doge perché Doge ha un ruolo Che non è quello della tecnologia, il ruolo di Doge è insegnare a tutti come funziona un mercato Allora, secondo me bisognerebbe prestarci molta più attenzione al meccanismo di equilibrio domande e offerte proprio di Doge Proprio perché è importantissimo, comunque a parte Doge, anche XRP ha fatto i numeri, Ethereum l'abbiamo visto Poi c'è Ada, Solana, Boom Boom, tantissime cripto, per non parlare di Binance Coin Che hanno fatto veramente i grandi numeri e privarlo delle grosse ragazzi Poi ci sanno le piccole che ovviamente hanno fatto X2, X3 e quant'altro Perché tutto è legato a una questione di capitalizzazione Si potrebbe anche fare tra le altre cose ragazzi un video per Diciamo un metodo, quindi un tutorial su come andare a scopare quelle che sono le criptovalute più piccole Che possono avere più pump In un arco di tempo estremamente breve Questa cosa è fattibile ma se vi interessa scrivetemelo nei commenti Così magari dedichiamo un tutorialone gigante perché qui ci serviranno almeno una quarantina di minuti Ma perché no ragazzi, ok andiamo a buttare giù un video YouTube di 40 minuti Però super tutorialone, quindi se vi interessa questa cosa scrivetemelo nei commenti Allora invece per quanto riguarda la dominance L'indicazione che ci ha dato è molto rilevante ragazzi Perché significa che il ciclo del rialzo delle altcoin è stato impostato in maniera estremamente positiva Ma soprattutto non è terminato Almeno questo è quello che ci dice il grafico della dominance E ci sposta anche l'idea di quello che potrà succedere da qui alle prossime settimane, ai prossimi mesi Anche per cavalcare la seconda ondata dell'altseason Perché sì ragazzi allora questa è stata la prima ondata dell'altseason Ma secondo me potrebbe essercene un'altra E a questo punto insomma è interessante andare a capire quando avverrà questa seconda ondata dell'altseason Quando intanto mettiamo il punto a questa qui E poi cosa potrà succedere, quali saranno appunto le cripto Che possono dare più impulso Allora ragazzi da un punto di vista ciclico sulla dominance Il 30 agosto del 2020 è iniziato un nuovo ciclo annuale sulla dominance di bitcoin Questo probabilmente indicava un recupero di bitcoin contro le altcoin Poi il livello di 73 ha retto a dicembre 2020 E quindi se l'anno 2020 può essere ricordato come l'anno di bitcoin Che veramente sovraperforma tutto Probabilmente ragazzi il 2021 viene ricordato come l'anno delle criptovalute Questa è una cosa importantissima da capire Perché bitcoin perde, perde, perde da dicembre contro le altre cripto Soprattutto contro Ethereum Perché ragazzi questa dominance è fortemente influenzata dalla dominance di ETH Perché questa è la dominance di ETH ragazzi non in termini percentuali Ma la market cap di ETH è fortemente influenzata da questo atteggiamento ragazzi Poi qui vedete un log ma questo sarebbe Se io vi tolgo diciamo il grafico logaritmico Ok ragazzi Perché Ethereum è più pesante rispetto alle altre criptovalute su bitcoin E quindi assume in termini percentuali maggior rilievo Cioè un'impennata del prezzo di ETH ragazzi Modifica la dominance di bitcoin in maniera più che proporzionale Rispetto a quelle che sono le cripto più piccole Nel momento in cui le cripto più piccole fanno il più 100 magari ok Sulla dominance di bitcoin non hanno un grande impatto ragazzi Quindi quando andate a guardare il grafico della dominance di bitcoin Dovete ricordarvi che la dominance subisce le oscillazioni per le top 10 del mercato cripto Le altre sono irrilevanti, sono inezie, sono 0.1 sulla dominance Quindi andare a guardare questo grafico e pensare che questa è un'indicazione sul fatto Che le micro coin stanno performando bene non è così ragazzi Questa è un'indicazione sul fatto che nelle top 10 c'è uno spostamento di equilibrio E quindi le top 10 sovra performano bitcoin in maniera consistente Questo è il discorso generale ok ragazzi Allora poi se andiamo a vedere appunto la market cap di ETH Vediamo che ha fatto dei numeri da paura da dicembre in poi Ed è proprio questo il discorso Ragazzi in questo momento qui vi faccio vedere una classifica In base alla market dominance delle criptovalute In questo momento ETH, BNB, XRP, USDT è irrilevante calcolarla ragazzi Perché la market cap si modifica per stabilire l'equilibrio Ovviamente dei mercati di domanda e offerta Quando c'è esigenza di stampare dollari perché la market cap delle cripto è salita tantissimo Ovviamente USDT sale Quindi questo è ovvio che sia così perché ci vuole la controparte in dollaro Quindi non la guardiamo Poi c'è ADA E DOGE ragazzi ok DOGE insegnamento ok Non la vogliamo considerare Cambia poco Comunque è il 2% di dominance DOT, UNI, LTC Che secondo me ecco ragazzi da LTC in poi Scendiamo a dover fare un po' di analisi settoriale Quindi io qui LTC e BCH non li considero Link è VET è Solana TETA sì Poi il resto diciamo andiamo in un altro ambiente Però quello che insomma dovete vedere in maniera molto chiara È che la market dominance di ETH si è avvicinata in maniera impressionante a quella di Bitcoin Cosa che soltanto qualche anno fa ragazzi sembrava impossibile Ma neanche qualche anno fa Qualche mese fa sembrava impossibile questa cosa Cioè ETH ora ha il 15,16% della dominance del mercato crypto Che cosa succede se ETH arriva a 5K Cioè fa un X1 Ragazzi cosa succede se ETH raddoppia Che raggiunge Bitcoin In termini di market dominance ragazzi ok Questa cosa Ok non può essere tralasciata Non possiamo non analizzare questo fenomeno Va bene ragazzi allora ETH da qui in poi andrà a crollare Adesso vedremo vi faccio vedere tra l'altro tra pochissimo ragazzi perché ho parlato di cicli sulla dominance I cicli sulla dominance noi li possiamo utilizzare per capire in che punto siamo di questo movimento Ok quindi potete prendere anche le vostre decisioni adesso vi faccio vedere sul grafico perché siamo in un punto importante E questo ci può stare quindi da qui al prossimo mese probabilmente le altcoin potrebbero un pochettino fermarsi Quindi intanto diciamo continuate il video Oltrimenti vi perdete però il succo quello importante Diciamo operativo Però il concetto che sta dietro è che non possiamo non guardare questo evento ETH è al 15% ragazzi quindi se veramente continua questa sua scalata in maniera consistente La possibilità che si avvicini alla dominance di Bitcoin è molto alta Molto alta molto alta molto di più di quello che era soltanto qualche mese fa Poi la cosa è assurda non è assurda funziona non funziona Oh mio dio come è possibile una cosa del genere Ok questi sono un discorso di natura e di opinioni ragazzi di punti di vista Ma i mercati questo stanno facendo Ok bisogna distinguere quelli che sono le nostre opinioni personali da quello che fa il mercato E non vedere quello che sta facendo il mercato è assurdo ragazzi Ok quindi o Bitcoin riprende a pompare come un dannato e si riporta a 80-90 Oppure Ethereum gli sta addosso ragazzi È assurdo dire una cosa del genere Vi faccio vedere anche l'altro grafico Quello di ETH appunto contro BTC Ecco ragazzi me l'ero perso Allora questo è il grafico Scusatevi tolgo una vecchia operazione di trading Il grafico di ETH contro BTC E la stessa cosa la stiamo vedendo qui Allora questi sono i precedenti livelli della precedente alt season Quella del 2017 Qui quello che è avvenuto è stato un cambio di trend di lungo periodo Per quanto riguarda ETH contro Bitcoin E ETH sta continuando a macinare i suoi profitti Dove potrebbe essere da un punto di vista di analisi tecnica Il primo livello di resistenza è all'interno di quest'area qui ragazzi Quindi fra 0057 0062 Oppure se vogliamo proprio stare un pochettino più larghi Ci mettiamo così Quindi 0055 0062 All'interno di questa zona C'è il primo livello di resistenza rilevante Se per quanto riguarda ETH contro Bitcoin Se questo livello verrà toccato e poi rotto La probabilità che ETH contro Bitcoin raggiunga i livelli di massimo Assume ancora un po' più rilievo Perché ragazzi se questo rapporto 0.05 diventa per esempio 0.1 Cioè ok a questo livello qua ragazzi Cioè raddoppia Significa che appunto ETH avrà raggiunto il 30% di dominance E Bitcoin sarà arretrato Perché la dominance è una percentuale E quindi probabilmente sono vicini ragazzi Assurdo Ma è così Proprio così I termini di dominance saranno vicini Bitcoin capitalizzerà ancora di più Però ETH sarà le vicino Perché sarà 700 miliardi contro i mille miliardi di Bitcoin ragazzi Ok quindi questo è insomma un discorso fondamentale Da andare a vedere e andare a considerare Allora questo è quello che sta succedendo sui mercati Ethereum, Binance si vedete Binance anche tira sulla dominance ragazzi Diciamo di altcoin contro bitcoin Però ancora siamo a piccoli numeri Le altre sono addirittura piccolissime Nel 2,50 Di cui ovviamente se vogliamo prendere I progetti che potrebbero avere un po' più futuro C'è solo ADA al 2% qui E DOT al 2% Poi ci sono le altre che hanno una Dominanza molto più piccola Quindi allora ragazzi Questi numeri anche se raddoppiano Tolgono però poco a Bitcoin Mentre se raddoppia Ethereum Gli toglie un 15% di capitalizzazione Quindi allora questo grafico Che è quello del dominance di Bitcoin È in un ciclo annuale ribassista ragazzi Ok questo significa che Bitcoin sta perdendo Terreno in termini di dominance Contro le altcoin Da un punto di vista operativo Contro Ethereum, Binance E poi le altre tutte insieme ragazzi Ma soprattutto è Ethereum che influisce Su questo grafico Ok spero di essermi spiegato A questo punto noi dobbiamo spiegarci Se questa gara ETH BTC Si sta svolgendo bene A che punto è Allora ragazzi Il grafico della dominance Ci dà un'indicazione molto importante Che è questa qui Allora il grafico della dominance Ci dice che in sostanza questa zona Che vedete appunto questa zona centrale È una zona di media Cioè in pratica noi abbiamo una fase Di ciclo annuale a metà Quindi probabilmente è possibile Che il mercato riposi qualche settimana Ne riposi qualche settimana Cosa significa Significa che possa andare a fare Una leggera ripresa Di questa dominance Per poi chiudere definitivamente Verso ottobre novembre Questo ciclo qui Questa gambetta rialzista Se la fa ragazzi È perché È un grafico ovviamente Percentuale Quindi non è un grafico Di uno strumento Ma è un grafico formato Da altri indicatori Quindi si chiamano Indicazioni Indicatori di indicatori Ok ragazzi Quindi l'analisi ciclica va bene Però bisogna capire Un po' quello che stiamo Andando a fare Stiamo forzando la mano Ok Però se fa questa gambetta Significa che da qui Ai prossimi mesi L'alt season Così come l'abbiamo vista Potrebbe subire Una leggera fase di arresto Non un blocco ragazzi Perché Se tutte queste indicazioni Che abbiamo detto Sono giuste Se veramente qui Il ciclo annuale È già ribassista Fino a novembre Dicembre Fino alla fine dell'anno Le altcoin Sono positive Contro bitcoin E in particolar modo Dovrebbero continuare A essere positive Dopo appunto Questa fase di riposo Che dovrebbe venire A momenti Una due settimane Tre settimane Ragazzi Questo qui Dopo questa fase Eventuale di riposo Potremmo iniziare Diciamo a gestire Magari buttare dentro Nuovi investimenti Sulle altcoin Ma soprattutto Ethereum BNB ADA DOT E uni Ragazzi Poi ci sono le altre Che influenzano Un po' di più Non vuol dire Che le altre Non faranno numeri Li faranno pure Ragazzi Ma questo è un altro Modo di vedere Il mercato E lo guarderemo In un altro video Se vi interessa Andremo a cercare A scovare Quelle che sono Le cripto Più Diciamo In grado di fare Numeri Seri Va bene Ok ragazzi Per oggi è tutto Fatemi sapere Tutto quello Che vi gira in testa E noi ci rivediamo Nel prossimo Video Che sudata Oggi Che sudata Vada bene Ciao